Buondi ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, ieri abbiamo approfondito che Frenturam dal punto di vista tattico e ci sono alcuni sviluppi, stessa roba anche sulla B.O. C'è un'eventuale contropartita tecnica che potrebbe essere inseribile all'interno della trattativa e novità su Douglas Lewis, perché non è arrivato ancora nessun comunicato, eccetera, per tutto in via di sviluppo e abbiamo delle notizie. Bentornati ragazzi, intanto come state? Mi auguro bene. Bene, partiamo subito a bomba con questo contenuto matutino. Poi nel pomeriggio spero di portarvi dei approfondimenti. Ho deciso anche di contattare nella giornata di oggi il professor Bava per cercare di incastrare magari la registrazione di un video che può esservi utile come guida per comprendere il mercato, per comprendere quanto l'economia comanda, qual è il margine di manovra della Juventus e insomma queste sono le novità. C'è anche dell'altro per quanto riguarda l'agenda di Giuntoli che sarà impegnato, molto impegnato questa settimana e non solo per il mercato in entrata. Bentornati. Prima di cominciare ripeto, like, iscrizione e a fine video tassativo ragazzi il vostro commento che sono curioso di leggervi. Oggi ho letto su Twitter Alessio Mascitti che non so se mi stai guardando. Ciao Ale. Mi ha scritto Ennesima partita brutta di Rabiot per me non va rinnovato. Allora Ale, per me ti dico Rabiot, vengo dalla tua, non va rinnovato ma non per la partita di ieri con la Francia che tutta la Francia in realtà è stata bruttina una prestazione veramente opaca con un avversario modesto a mio parere la Polonia però il discorso va ampliato a quello che è stato il rendimento in questi cinque anni. Non abbiamo più un anno di riferimento ne abbiamo ben cinque. Un anno ha fatto una resa straordinaria da Biu. Per il resto è un giocatore che in campo scuscolamento di presenza fa un lavoro sporco anche importante ma come lui pagati in quel modo ce ne sono tanti altri che possono sopperire alla sua assenza ed è per questo che secondo me la Juventus ha ragione in termini di spazio che Rabiot lascia magari andando via dalla Juve. La Juve si è infastidita da certe dichiarazioni e dal silenzio continuo di Rabiot tanto è vero che sta cercando comunque la fondo ragazzi per che frenitura amo. Ci sono delle discussioni in ballo e lo dicono tutti c'è ieri tweet serale di Fabrizio Romano ve lo leggo perché ce l'ho qua la Juve sta attivamente lavorando per assicurarsi che è frenitura amo. Le discussioni sono in corso tra i dirigenti bianconeri e quelli del Nizza per cui sono seduti al tavolo in questo momento cioè non fisicamente ma si chiacchierà si vede un po' di trovare la quadra perché? Perché poi ne parliamo aspettate però soffrimiamoci un attimo su Rabiot io non ce l'ho contro Rabiot e capisco anche chi apprezza Rabiot per me non è non mi esalta non mi se volevo rinnovare a quella cifra tempo fa sapete cosa vi avrei detto un mesetto fa vuole rinnovare va bene se lo vuole motta gli alzo le mani però francamente preferisco un'altra tipologia di centrocampista Douglas Lewis mi piace di più anche se completamente differente Kefren Turam come detto lo stesso Amy Scouting nel video di ieri che se non l'avete visto vi invito ad andare a rivedervelo perché è una discussione sensata di campo sulle funzioni che potrà avere Kefren Turam nella Juventus di Tiago Motta è che Kefren Turam è un upgrade di Rabiot e costa meno perché il costo tra l'ammortamento e l'ingaggio del ragazzo sarebbe inferiore o pari al netto che prende ad oggi Adrian Rabiot ed è per questo che la Juve sta avanzando in questa trattativa e a mio parere quando si parla al di là di Rabiot ragazzi non credo che la Juventus in questo momento abbia bisogno di due doppioni tot cioè forti forti credo che abbia bisogno di un giocatore in quel ruolo e un altro che sia un po' più bravo nella fase di rifinitura Copmainers o similari ecco ci siamo capiti per cui Rabiot e Kefren Turam un po' stonerebbe a mio parere in quella che è la strategia di sostenibilità di attenzione al bilancio eccetera per cui se la Juve prende Kefren Turam è perché ormai ha rinunciato in un certo senso ad Adrian Rabiot però lo vedremo lo scopriremo solo vivendo cantava qualcuno la novità vera è che Kefren Turam intanto ha voglia di vestire bianco nero ha voglia per cui c'è la sua volontà e questa fa tutta la differenza del mondo perché dal momento in cui la Juventus si siede con il Nizza a parlare ha due elementi che sono fenomenali ovvero la scadenza del contratto l'anno prossimo è volontà del giocatore per cui il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Juventus ed è per questo si parte da 25 ma c'è una grande disponibilità da parte del Nizza di trovare una quadra sia in termini di scontistiche sia in termini magari di contropartita tecnica perché a livello di contropartita tecnica il Nizza vorrebbe un giocatore giovincello forte di belle speranze che ha individuato la Juventus come eventuale contropartita Nonge che ha ultimato la sua maturazione all'interno della Next Gen ha fatto anche la parte finale con i playoff eccetera ha giochichiato in prima squadra poco e nulla però quelle presenze tanto bastano per convincere eventualmente il Nizza ad oggi Nonge non è ancora stato inserito sul piatto diretto dell'offerta ma c'è l'intenzione della Juventus di poterlo inserire in questo modo abbassano sicuramente i costi e ovviamente la Juventus ci fa delle plusvalenze importanti la Juventus ha avuto secondo me una grande sfortuna in questo periodo ovvero quella di trovarsi tanti giovani che vanno a ingorgare il reparto di Mediana per cui certe scelte vanno fatte Barrenecea nella giornata di oggi dovrebbe sostenere le visite mediche all'Aston Villa C'è Nonge che comunque viene utilizzata come contropartita addirittura il futuro di Miretti è in dubbio per cui c'è tanto tanto là che va sfoltito e va monetizzato il fatto è che tutto ciò che monetizzi dalle giovanili è tutto guadagnato poi chissà su alcuni giocatori magari la Juventus terrà un certo controllo o una clausola di ricompra o una sorta di precedenza ok o una tariffa fissata ricompra una clausola che io posso ricomprare un contro riscatto ecco del giocatore vediamo cosa succederà sulla gestione dei giovani però quelli sono soldi puliti che entrano e sono tutte delle plusvalenze ragazzi tutte quante per cui questo questo va sottolineato e questi tesorietti qua consentono alla Juventus un po' di margine di manovra per quanto riguarda questa trattativa che è già secondo me low cost non troppo onerosa e insomma la cessione di Nonge in questo senso potrebbe venire incontro alla Juventus per far sì che la Juventus cacci meno soldi possibili e quindi è messo là sull'altare dei sacrificabili se ne va il pupillo di Romeo non è detto non è detto vediamo perché la Juventus è comunque disposta anche a pagare cash questa operazione è importante che si trovi una quadra che secondo me si va da sotto i 20 milioni appena sotto o comunque giù di lì o attorno ai 20 rimanendo sempre là comunque ripeto c'è grande disponibilità da parte del Nizza e vediamo io sono molto entusiasta di questa cosa lo sapete già non vi devo dire nulla è un centrocapista giovane di belle speranze che può secondo me solo prendere valore per il prezzo che lo stiamo pagando a mio parere non abbiamo quasi nulla da temere perché non è un'operazione onerosa che ti va male ma è un'operazione abbastanza ridotta nei costi e che se anche ti va male riesci comunque a sbrogliartela in qualche modo perché il ragazzo non andrà a pretendere ingaggi da top ma andrà a prendere un buon ingaggio valido per quello che è il suo livello attuale ok e quindi è un'operazione sostenibile che entra in quelli che sono i canoni di sostenibilità che la Juventus si è imposta da un po' di tempo a questa parte per cercare poi di raggiungere quel famoso pareggio di bilancio al 2026 2027 e questa è l'altra situazione quindi che Frenturam si lavora tanto però attenzione perché Giuntoli in questo momento ha la testa anche sulle cessioni tant'è vero che è molto probabile che nella giornata di domani il signor Giuntoli si presenti in quel di Milano per cercare di piazzare già gli altri esuberi da Scesni a insomma Adescio e tutti gli altri cioè Mekenni tutti questi nomi qua la Juventus deve cercare di piazzarli quanto prima possibile e quindi lui sarà impegnato sicuramente a Milano detto ciò attenzione perché la settimana prossima dovrebbe arrivare poi l'ufficialità anche per Di Gregorio e questa è l'altra notizia interessante che è arrivata ieri sera un'altra cosa ragazzi giovedì è la giornata delle visite mediche di Douglas Lewis domani dovrebbero arrivare insomma delle novità importanti ufficialità eccetera magari anche un comunicato il ingaggio ha sostenuto le visite adesso tocca a Barnancea e poi tutto ragazzi si definirà con i comunicati i rispettivi comunicati detto ciò ragazzi io vi vi lascio stare per stamattina non non mi dilungo più di tanto come ho fatto ieri vi mando un forte abbraccio e sempre fino alla fine forza Juve